A partire da lunedì 16 gennaio, The Last of Us è arrivato in Italia in contemporanea con la prima trasmissione USA su HBO Max. Il primo episodio è già disponibile sottotitolato in lingua italiana, ma quando ci saranno gli altri? Ecco a voi tutte le informazioni per poter seguire la serie nel nostro paese. In esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su Now lunedì alle 3 del mattino e poi in replica in prima serata alle 21.15 è andato in onda il primo episodio in lingua originale sottotitolato in italiano. Da lunedì 23 gennaio alle 21.15, sempre in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming solo su Now, sarà possibile seguire la serie anche doppiata in italiano. A seguire in replica il nuovo episodio in versione originale sottotitolato in italiano, andato già in onda in prima visione alle 3 del mattino, ora italiana. A video vedete la recensione della serie tv di The Last of Us e la recensione del remake del primo gioco della serie The Last of Us parte 1. E voi? L'avete già visto? Diteci la vostra nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace che fa sempre piacere. Grazie e alla prossima!